Buonasera, tra qualche istante il nostro Tg, apertura dedicata alla sanità con la protesta dei medici dell'Annunziata davanti al Comune di Cosenza e poi naturalmente tanto spazio alla politica. Questo e tanto altro ancora. Tito lì. Hanno protestato davanti al Comune di Cosenza i medici dell'Annunziata. L'ospedale sta morendo, dicono non garantiti i livelli essenziali di assistenza. I camici bianchi chiedono il sostegno del Comune. Il sindaco chiuto, noi siamo con voi. Era stato riletto per la terza volta sindaco di Zambrone. Pasquale Landro stava festeggiando il risultato ottenuto quando è stato colpito da un infarto. L'uomo che aveva 59 anni è deceduto sul colpo. Pietro Caracciolo vince lo primo turno a Montalto Fugo, cancellando e un colpo solo l'eredità di Gravina. Martina Hauser, assessore alle politiche ambientali del Comune di Cosenza, indagata a Roma insieme al compagno, l'ex ministro all'ambiente Corrado Quini. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione con l'aggravante della trasnazionalità. È stato affermato dalla polizia il presunto autore dell'agguato ai danni di un 15enne rossano. Si tratta di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine. Ci sarebbero contrasti nello spaccio di droga alla base del ferimento. Assolta perché il fatto non sussiste. La pediatra dell'ospedale di Locri è accusata di omicidio colposo per la morte di Sara Sarti, la bimba di 4 anni, deceduta il 23 agosto del 2009. Il padre della piccola. Sono amareggiato. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento del nostro Tg. L'avete sentito dai titoli, l'apertura è dedicata alla sanità con i medici dell'annunziata che hanno protestato davanti al comune di Cosenza. L'ospedale sta morendo, dicono. I medici chiedono proprio il sostegno da parte della comune con una delegazione che ha incontrato proprio il sindaco Occhiuto. Sentiamo, Rosa Babaldino. Lo avevano annunciato e stamattina sono stati puntuali davanti a Palazzo dei Bruzzi. I medici dell'annunziata da me si protestano, da me si denunciano che l'ospedale è al collasso, sit-in, cortei, documenti, tentativi di mediazione, ma nessun risultato. Anzi, oggi, senza il commissario ad acta, i camici bianchi sottolineano. È paralisi. Se ci sarà una nuova nomina e quindi la possibilità di un interlocutore, probabilmente quantomeno riprenderemo un dialogo. Valuteremo, a seguito delle altre forme di lotta, anche la possibilità di fare uno sciopero per la sanità e non solo della sanità. L'abbiamo già comunicato anche a Sua Eccellenza il Prefetto e vedremo nei prossimi giorni. Ma al municipio cosa si chiede? Lavorremmo con noi dalla parte nostra, non come controparte. Non passa un'ora e si decide per l'incontro. I componenti, la Commissione Sanità e il sindaco nella sala rosa del Palazzo di Città. Stare vicino ai medici, stare vicino all'ospedale annunziato. Il primo cittadino ascolta e risponde. Noi siamo stati vicini sempre perché lo abbiamo fatto con i consigli comunali dedicati ad hoc per i quali, fra l'altro, sia maggioranza che minoranza, la loro animità hanno portato e hanno fatto delle richieste urgenti anche all'interregione che però queste sono rimaste a lettera morta. Abbiamo fatto sentire la nostra voce anche per tutte le questioni di cui siamo stati interessati. Devo dire che i medici si lamentano però devono anche loro in qualche modo fare un po' di autocritica e capire che nel passato sono stati anche strumentali ad una situazione che si è creata. Per risolvere questo problema la politica si deve mettere da parte, bisogna dare gli strumenti quelli più opportuni ma non ci deve essere un legame che poi fa scaturire situazioni clientelarie all'interno delle strutture sanitarie, di quelle ospedaliere perché tutto questo poi va a discapito dei cittadini e degli utenti. Ampia pagina dedicata al risultato elettorale. Nel corso della nostra lunga diretta abbiamo parlato proprio dei risultati delle europee e naturalmente delle amministrative. Arrende, lo ricordiamo, per conoscere il nome del nuovo sindaco bisognerà attendere il turno di ballottaggio. A contendersi la poltrona di primo cittadino, Marcello Manna di Laboratorio Civico e Pasquale Verre, candidato del PD e di altre liste proprio del centro-sinistra. Per i sindaci invece, eletti al primo turno, serata quella di ieri naturalmente di festeggiamenti a Zambrone, però un centro del Bibonese la festa si è trasformata in tragedia. Pasquale Andro, rieletto sindaco, stava festeggiando il risultato ottenuto quando è stato colpito di infarto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Vediamo. Che la provincia di Bibonese sia un territorio senza pace è ormai un dato di fatto, ma che questo sia rafforzato anche da eventi fatali è davvero troppo. E così, mentre ancora non si spegne l'eco dei festeggiamenti per i nuovi sindaci eletti, ecco che drammi e cronaca prendono il sopravvento, scombinando risultati e dati. Innanzitutto la tragedia, terribile ed atroce, che colpisce la comunità di Zambrone. Erano le due di notte ed erano ancora in piedi i festeggiamenti per la riconferma del sindaco Pasquale Andro, di 59 anni, appena rieletto, chiamato al suo terzo mandato alla guida del comune della costa tirennica. Ad un certo punto avverte un valore e si accascia. Infarto. A nulla sono serviti i soccorsi del trasporto in ospedale. A San Gregorio di Pone, invece, il riconfermato sindaco Michele Pannia ha dovuto interrompere i festeggiamenti perché la DDA gli ha notificato il sequestro di un appartamento che, secondo gli inquirenti, sarebbe invece riconducibile al capo della cosca fioree razionale e solo fittiziamente intestato alla famiglia e dal sindaco di San Gregorio di Pona, che avevano venduto negli anni Ottanta l'immobile senza mai effettuare il dovuto passaggio di proprietà. La posizione del sindaco e dei suoi familiari è adesso al vaglio degli inquirenti, avendo favorito per tutti questi anni l'aggiramento della normativa antimafia da parte di Saverio Razionale. La crona che aveva comunque preso il sopravvento già ieri pomeriggio a scrutini non ancora conclusi, con l'attentato incendiario ad un capannone di Gianluca Restuccia, candidata a consigliere comunale a finandare nella lista del riconfermato sindaco Pizzuto. Se già tanto potrebbe bastare, in provincia di Vibo Valencia no. C'è dell'altro, con tre comuni che uscivano a commissariamenti per infiltrazioni mafiose che hanno rinnovato gli organi elettivi in situazioni non del tutto chiare. Abriatico, l'unica lista presentata ha superato il quorum e leggendo sindaco Andrea Niglia, sul quale però pende un ricorso del Ministero dell'Interno in appello che ne chiede l'incandidabilità in quanto facente parte del precedente consiglio sciolto per mafia. Nella lista di Niglia è stato eletto anche Costantino Massara, ex sindaco, la cui amministrazione è stata pure sciolta per mafia nel 2003. A Mongiana è stato eletto sindaco Bruno Iorfida ed in consiglio comunale sono stati rieletti tre amministratori uscenti dichiarati incandidabili in primo grado perché ritenuti responsabili dello scioglimento del comune per mafia. Il verdetto d'appello è atteso per il 16 giugno. A Mileto, rieletti in consiglio gli ex assessori Nicolaci e Vallone dichiarati incandidabili in primo e secondo grado a causa dello scioglimento per mafia del comune di Mileto, scioglimento confermato anche dal Consiglio di Stato. Non succedeva dal 1999, Rende va al ballottaggio, nessuno dei candidati ha superato la soia del 50% dei consensi e così nella città del Campagnano riparte la campagna elettorale. La sfida è tra Pasquale Verre e Marcello Manna, così come si comporteranno gli altri candidati, alcuni già prima del voto, avevano detto che in un caso per quanto riguarda il secondo turno non avrebbero fornito indicazioni di voto ai propri elettori. Sarà proprio così? Vediamo. Come da pronostico il nuovo sindaco di Rende sarà decretato dal turno di ballottaggio in programma per l'8 giugno prossimo, quando a contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Pasquale Verre centrosinistra e Marcello Manna centrodestra, il primo distanzia e il secondo di 6 punti percentuali circa. Vediamo dunque i risultati finali. Il medico chirurgo, espressione dell'ala riformista del Partito Democratico, ha totalizzato 8.204 preferenze personali, pari al 37,79%. Le 5 liste a suo sostegno, tra cui PD, Italia dei Valori e SEL, apparentata con una delle tre liste civiche, hanno ottenuto il 43,27% dei consensi, quasi 6 punti in più del candidato sindaco. 6761 e voti espressi a favore dell'avvocato penalista Cosentino, Marcello Manna. Siamo al 31,14% dei consensi. Anche in questo caso erano 5 le liste, tutte di orientamento civico, presentati a suo favore. Raggruppamenti che hanno fatto registrare il 31,39% dei consensi. I voti di vista corrispondono quasi del tutto a quelli ottenuti dal candidato a sindaco Manna. Considerevole il risultato ottenuto da Massimiliano De Rosa e capogruppo IDB nella precedente consigliatura. 2.995 i voti a suo favore, pari al 13,79%. Le tre liste civiche a suo sostegno hanno ottenuto invece l'11,67%. Veniamo al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Domenico Miceli. 2.109 le preferenze che si traducono nel 9,71%, inferiori di tre punti percentuali i voti espressi alla lista 5 Stelle. Al di sotto delle aspettative, almeno quelle i suoi personali, il piazzamento dell'ex consigliere di minoranza Andrea Cuzzocrea, che si ferma a 1.148 voti, pari al 5,28%. La lista di Centro Democratico ottiene il 4,70%. Chiude l'elenco Luca Pizzini, ex PD e assessore comunale con Cavalcanti. Per lui appena 489 preferenze, vale a dire il 2,25%. La lista Italia del Meridione prende il 2,52%. Alle amministrative di Montalto Fugo, uno dei centri più grandi del Cosentino, dopo un decennio perde il centro-sinistra. La fascia di primo cittadino passa da Ugo Gravina a Pietro Caraccio. Dopo dieci anni di domini incontrastato del centro-sinistra, Montalto Fugo cambia e consegna al primo turno la fascia di primo cittadino a Pietro Caracciolo, illustri avvocato civilista del Foro di Cosenza, appassionato di politica, alla guida di una coalizione, espressione dei partiti di centro-destra ed una componente civica. Caracciolo rompe dunque, dopo un decennio di gestione Gravina, una delle roccaforti dell'area urbana Cosentina. Caracciolo ha vinto, evidentemente, perché ha saputo intercettare le stanze di cambiamento dei cittadini. Credo che le componenti siano veramente tante. Sicuramente c'è un entusiasmo generalizzato da parte di chi ci ha seguito durante tutta la campagna elettorale, che è stata una cosa veramente entusiasmante, davvero entusiasmante. Credo che ci sia stata molta voglia di cambiare registro dopo dieci anni di amministrazione, quindi è fisiologico poi che ci sia un ricambio dopo dieci anni e sono stato veramente fortunato di aver avuto in coalizione le persone veramente valide che sono impegnate e anche fuori dalla coalizione abbiamo avuto un aiuto un po' da tutti. Il suo progetto politico è semplice e lineare ed ha tre punti cardine. Una delle prime cose che dovremo verificare è sicuramente il discorso economico di questa portata del debito, perché questo potrebbe condizionare l'attività amministrativa che iniziamo a fare. Io ritengo che sicuramente uno dei primi punti su cui insistere sia quello dell'assistenza alle persone socialmente deboli. In questo momento particolare credo che questa sia una priorità. Poi c'è da riorganizzare un po' la macchina amministrativa perché mi sembra che si sia un po' incagliata in alcune situazioni e questo chiaramente porta degli scompensi anche per i cittadini di Montalto e poi ci sono delle esigenze primarie perché qui a Montalto abbiamo ancora delle situazioni come l'approvvigionamento idrico che è carente su tutto il territorio perché abbiamo parlato molto con i nostri amici. Ci sono tante cose da fare, poi abbiamo anche la necessità in qualche misura di intervenire a sostegno di chi dà occupazione perché Montalto c'è una disoccupazione piuttosto elevata. C'è da rivedere un po' il discorso dei tributi perché ci troviamo con una evasione tributaria esagerata per Montalto che Montalto non si può permettere. Nel servizio di Anna Franchino invece qualche curiosità su queste elezioni. Vediamo. Le elezioni non sono solo ansia, tese, gioia e sconforto ma anche curiosità. Sentite un po' in Calabria, così è accaduto alle amministrative. Non poteva che vincere lui a Feroleto della Chiesa, comune in provincia di Reggio Calabria, interessato dalle amministrative. Papa Francesco ha ottenuto 639 voti, pari al 56,95%, sbaragliando la concorrenza dell'altro candidato, Rocco Carbone. Ma il pontefice Iorghe Mario Bergoglio non c'entra nulla. Eppure sarà un caso. Il neoprimo cittadino di Feroleto, nel simbolo della lista civica che lo supportava, ha inserito una colomba bianca ed un ramo scello d'ulivo ed è quasi coetaneo del Santo Padre. Elezione particolare a Verzino, nel Crotonese, dove il candidato a sindaco dell'unica lista presentatasi ha dovuto attendere solo il raggiungimento del quorum per esultare per il suo secondo mandato. Non sempre è così. Infatti a Platì, comune del Regino, si dovrà tornare a votare nella prossima tornata amministrativa perché, a differenza di Verzino, la percentuale dei votanti si è fermata al di sotto del 50%. Circostanza che si è verificata per la seconda volta a Roccaforte del Greco. Sempre in provincia di Reggio Calabria, in entrambi i casi, sarà nominato un commissario che provvederà alla gestione del comune, sperando che non valga la regola del non c'è due senza tre. Ancora in minoranza, le quote rosa in tutta la regione sono 15 le donne elette su 149 poltrone di primo cittadino, una in provincia di Catanzaro, una in quella di Crotone ed una a Vibo, nove in provincia di Cosenza e tre nel Regino. Fra le curiosità spicca anche il dato che riguarda tre comuni del Vibonese, nei quali sono stati eletti i cosiddetti incandidabili, perché facevano parte dei precedenti consigli sciolti per mafia. In ultimo, il caso di Careri, comune del Regino, dove in un seggio elettorale qualcuno ha deciso di rendere la propria scheda più pesante del previsto, infilandoci un proiettile. Un gesto dimostrativo che è servito soltanto ad interrompere per un po' le procedure, giusto il tempo di avvisare i carabinieri e la procura di Reggio Calabria. Lo straordinario successo di Matteo Renzi, registrato anche nella nostra regione, riuscirà a ricompattare il PD calabrese, chiamato ora alla sfida importante alle regionali, a sentire alcuni protagonisti ospiti della nostra lunga diretta elettorale. Beh, le distanze ci sono e sono ancora profonde, a cominciare dalla questione primaria. Il tempo stringe e bisogna decidere. Si faranno, non si faranno. Sentite il duello a distanza tra il segretario regionale Resto Magorne ed il consigliere regionale Nicola Damo. Sentiamo, Marisa Falli. Basterà lo storico risultato di Matteo Renzi, di cui può godere anche il PD calabrese a ricompattare correnti e fazioni in vista delle regionali di autunno? Apparentemente sì, ma nei fatti la cosa non è così semplice. Un assaggio di quanto siano distanti posizioni e visioni a livello locale, anche se tutti ora si ammantano della bandiera renziana, lo si è avuto nella nostra lunga diretta sul voto. Un botte risposta tra il segretario regionale Magorne e il consigliere regionale Nicola Damo. Il nodo? Le primarie. Le primarie ci sono state ieri. Gli italiani hanno deciso di legittimare il governo Renzi in questo paese. Io credo che noi dobbiamo mettere in campo una grande proposta unitaria. Per esempio, Mario Oliverio, può essere un uomo condiviso? È una straordinaria energia per il nostro partito, per la nostra regione. Credo che bisogna ragionare e dobbiamo trovare soluzioni condivise. Quel se, sottolineato da Magorno, la dice lunga sulla reale volontà di procedere con le primarie, anche se lo stesso esclude il famoso Papa Nero, il candidato calato da Roma. Escludo che Roma possa decidere il candidato della presidenza della regione Calabria. Passa qualche ora ed ecco che Nicola Damo manda un messaggio chiaro a Magorno. Vorrei da questa redazione mandare un messaggio a Magorno. Non emuli Sandro Principe. Cioè non va per la regione. Quello che ha fatto Sandro Principe rende, sulla scelta delle primarie, rende la prova che le primarie possono unire e non dividono. Quando si impone un candidato in tempi in cui c'è un partito come quello del PD, chi ha fatto alle primarie il suo carattere, come dire, identitario, fondativo, non va bene. Ma non solo. Per Adamo le primarie sono passaggio obbligato. La novità qual è? Che la Calabria è obbligata. Il 3 giugno, direttore, il Consiglio regionale, probabilmente, io dico lo deve fare obbligatoriamente, però qui è tutto un mistero, diciamo, ma certamente dovrà accadere che si prende atto delle dimissioni del Presidente Scopelliti. Da quella data parte il conto alla rovescia per quanto riguarda la scadenza dei termini per intire la data delle elezioni e intire la data delle primarie collegie regionali. Come può il PD dire no, chiedo scusa, non ci interessano le primarie, tirarsi fuori in Calabria? E allora, quanto è reale l'unitarietà sfoggiata a urne chiuse? Che farà soprattutto Mario Oliverio autocandidato Sida Mesi? C'è anche Martina Auser, Assessore al Comune di Cosenza, nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex ministro Clini Lauser e moglie di Clini di accusata di far parte di una presunta associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. L'inchiesta verte su presunte provviste realizzate tramite progetti per centinaia di milioni realizzati in Cina e anche nel Montenegro. E' stato arrestato il presunto autore del tentato omicidio del 15enne ferito giovedì scorso a Rossano. Il provvedimento eseguito oggi non chiude però le indagini. Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per capire se altri hanno partecipato all'agguato e se il ragazzo che ne risulta inserito in ambienti criminali fosse il vero bersaglio. L'azione del moratore 37enne che ha fatto fuoco sarebbe maturata nell'ambito dello spaccio di droga. Già Luca Pasqua ha ascoltato il capo della squadra mobile di Cosenza, Giuseppe Zanfini. Sentiamo. E' un 37enne di Rossano, l'uomo incappucciato, sbucato dal nulla giovedì sera, che ha fatto fuoco contro il ragazzo di 15 anni ferito gravemente nel quartiere popolare Gran Sasso della cittadina Ionica. L'uomo, salvatore abbastante, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Cosenza del commissariato di Rossano. L'arresto è venuto in seguito al provvedimento di fermo che ha messo la procura della Repubblica di Castrovillari, precisamente la dottoressa Cozza, ed è stato emesso a conclusione della nostra indagine, partita evidentemente nell'immediatezza, che ha permesso di acquisire una serie di elementi, una serie di riscontri che ci fanno ritenere che possa essere proprio l'abbastante l'autore del tendato omicidio. Due colpi di fucile, arma ancora non rinvenuta, al fianco e alla tibia, il ragazzo, ricoverato prima a Rossano e poi trasferito a Cosenza, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Inizialmente gli inquirenti hanno seguito la pista dei contrasti tra famiglie, ma le indagini poi hanno preso un'altra direzione. Noi riteniamo, ma ripeto, siamo ancora nel campo dell'ipotesi, possa essere legato al discorso dello spaccio degli stupefacenti in quel territorio. È un'attività di indagini classiche che si fanno nell'immediatezza e c'è da dire, è una cosa importante, è che abbiamo sequestrato una tuta che l'abbastante avrebbe utilizzato per sparare e una calzamaglia che avrebbe utilizzato per coprire il volto e su questi elementi fare manca delle analisi scientifiche sul DNA. Abbastante, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe agito da solo a volto coperto, avvicinando il ragazzo che stava per recarsi a casa di parenti, un agguato in piena regola, in un quartiere dove lo spaccio, a quanto pare, di casa. Le indagini hanno portato la polizia sulle tracce del muratore, altri accertamenti sono in corso per scoprire eventuali complicità. L'indagine sta continuando perché dobbiamo verificare se ci sono altre persone coinvolte, dobbiamo verificare quindi se ci sono complici, dobbiamo anche capire meglio il movente che ha spinto l'abbastante a ferire il ragazzo. È stata assolta Maria Teresa Sabatino dal gruppo del Tribunale di Locri perché il fatto non sussiste. Al termine del processo con il rito abbreviato, la pediatra dell'ospedale cittadino accusata di omicidio colposo per la morte di Sara Sarti, la bimba di 4 anni, deceduta nell'agosto del 2009 per shock settico. Il giorno dopo essere stata visitata in ospedale, la piccola che viveva a Pisa con i genitori era ospite dei nonni a Locri. Il papà alla lettura del dispositivo della sentenza si è detto amareggiato, intanto continua il processo con rito ordinario nei confronti dei due medici del pronto soccorso che visitarono la bimba al suo arrivo proprio del nosocomio di Locri. Cambiamo decisamente argomento. Da fine maggio a metà giugno la Villa Vecchia di Cosenza ospiterà la Spring Fest che si compone di tre diversi eventi e ce ne sarà un quarto in Piazza dei Valdesi. Vediamo. Si chiama Spring Fest, ovvero festa di primavera. È promossa dall'Associazione Eventi e Musica con il patrocinio del Comune di Cosenza e si svolgerà dal 29 maggio al 15 giugno nella Villa Vecchia di Cosenza. La Spring Fest si compone di tre eventi, la prima edizione del Peperoncino Wine Festival, il Pub in Fest e il Cosenza Pizza Village. E un altro evento si svolgerà in Piazza dei Valdesi, tutto organizzato per rivitalizzare il centro storico cosentino. Una serie di iniziative che rientrano all'interno di quello che è il percorso intrapreso all'amministrazione comunale di valorizzazione dei luoghi attraverso una serie di eventi, di iniziative, di manifestazione proprio nei luoghi più suggestivi della città di Cosenza. In questo caso il centro storico, la Villa Comunale, la Villa Vecchia, polmone verde della città che per tre weekend sarà piena di stand enogastronomici ma soprattutto di iniziative culturali, di buona musica. La festa di primavera è la rinascita e quindi anche in questo senso cerchiamo di far rinascere il centro storico. Naturalmente continuerà anche col boulevard poi successivamente dopo il 20 giugno. Quindi questa programmazione è ricchissima, parte dalla programmazione anche dell'amministrazione Occhiuto su tutti gli eventi, su tutte le attività che stiamo facendo sia sulla città di Cosenza, anche sul centro storico, sul commercio, sulle attività commerciali, sulle attività artigianali e naturalmente sul vino, quindi il cibo e anche il peperoncino. In questo caso abbiamo un binomio con l'Accademia del Peperoncino. Poi porteremo avanti l'attività con Pub in Fest che praticamente è dare spazio alle attività commerciali di Cosenza e Rende che hanno i pub, le attività tipo caffè, bar e ristorazione. E poi andremo avanti con la Plaza dell'Artisti che sarà invece esclusivamente un'organizzazione di artisti che sarà fatta a Piazza Valdesi. Si svolta a Mendicino la decima edizione della rassegna culturale Incontro con l'Autore promossa dalla Fondazione Carica. Vediamo. Per il decimo anno consecutivo la Fondazione Carica l'ha organizzato Incontro con l'Autore, un appuntamento di grande prestigio che fa parte di un progetto pluriannale rivolto a studenti di scuole superiori di Calabria e Lucania. Incontro con l'Autore ha una finalità educativa e di grande stimolo per le nuove generazioni invitandole alla lettura. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto del Laboratorio di Lettura e Scrittura, attivato da anni dalla Fondazione Carical con l'intento di stimolare negli studenti delle scuole della Calabria e della Basilicata l'attività di approfondimento, di analisi e di critica. I libri che noi selezioniamo e offriamo gratuitamente sono di autori giovani e meno giovani ma su argomenti di grande interesse e quindi vengono stimolati anche dal nome degli autori e dall'interesse dei libri a leggerli, a commentarli tra di loro, a discuterne. Poi c'è anche un'altra caratteristica in questa iniziativa. I ragazzi sono liberi, leggono e scrivono quello che ritengono di poter scrivere, alcuni fermandosi sul linguaggio, altri su un personaggio, altri sull'ambiente eccetera, senza vincoli. Di solito la scuola impone tracce e quindi percorsi obbligati, qui invece i ragazzi sono liberi e quindi è una scrittura anche creativa. I migliori testi da loro scritti poi vengono pubblicati su due giornali locali e quindi i ragazzi hanno un momento di protagonismo vero. Le classi coinvolte sono state complessivamente sette scelte tra cinque istituti scolastici della Calabria e due della Basilicata. Alla cerimonia di premiazione dei primi classificati hanno partecipato tutti gli autori dei romanzi recensiti dagli studenti. Una notizia di sport e calcio, il Cosenza ha scelto il suo nuovo direttore sportivo, si chiama Mauro Meluso Cosentino, è nato a Cosenza proprio nel 1965 e Meluso dal giugno 2011 è stato responsabile del settore tecnico del Frosinone e in precedenza aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo a Padova, Pisa, Foggia, Ternana e Teramo. E' il momento del meteo, previsione del tempo. Un saluto da cosenzameteo.it. Il tempo si mantiene sostanzialmente stabile con climamite. Le immagini che ci arrivano dal satellite infatti ci mostrano cielo sereno, poco nuvoloso su tutto il bacino del Mediterraneo. Una perturbazione di origine atlantica invece interessa l'Europa centrale, sul nostro paese i suoi effetti saranno però solo marginali, si avrà un lieve calo della temperatura e qualche passaggio nuvoloso associato a deboli piogge, più probabili nella giornata di giovedì. Andiamo a vedere quindi cosa si prospetta sulla Calabria. Nella giornata di domani cielo sempre sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente sul reggino dal pomeriggio sera, con deboli piogge. Le temperature risulteranno in lieve calo e comprese nelle medie del periodo. Infine vediamo i mari ai venti. Domani entrambi i bacini risulteranno poco mossi, con venti deboli. Per ulteriori dettagli vi rimando alle previsioni triorarie, località per località, disponibili sul sito www.cosenzameteo.it Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.